L'arte è arte tout court, quindi si parte da un certo ambito ma necessariamente ci si muove e poi si vola in tutti gli altri ambiti perché c'è un principio di sincronicità e di connessione, quindi credo che sia da questo punto di vista inevitabile. Poi semplicemente bisogna dire che a D'Arezzo si mangia bene. È stato l'appuntamento dedicato alle stelle della cucina ad inaugurare Dialog, la rassegna di appuntamenti artistico-letterari dedicata ai cataloghi d'arte. Si tratta di una sorta di estetica culinaria, quella che coinvolge il processo della cucina contemporanea, quindi mi affascina questa dimensione. Manfredi Niccolò Maretti, giovane editore, appassionato del mondo enogastronomico, ha così proposto al pubblico la sua opera Le stelle Michelin in Italia, enciclopedia dei ristoranti stellati italiani dal 1959 al 2021. Diciamo che questa pubblicazione va a raccontare tutta la grande storia della cucina italiana. Un elenco, come diceva prima Fabio, che però scava in profondità dal 1959 sino al 2021, andando poi a esaminare anche l'evoluzione della nostra cucina e anche come la Michelin ha modificato nel corso di queste decadi l'assegnazione delle stelle. Poiché negli anni 50, fino agli anni 50, 60, possiamo trovare dei ristoranti stellati come i girarrosti e delle trattorie. Due su tutti abbiamo due girarrosti nel 1959 insegniti dalla Stella Michelin a San Vincenzo Amare e a Pontassieve. Quindi questo è un esempio particolare di ristorazione che è mutata nel corso degli anni, ma soprattutto è mutato il giudizio della Michelin che probabilmente oggi questi ristoranti non avrebbero più l'onore o la menzione all'interno della guida con la Stella.